Forse non mi manca così tanto Cielo nero, tra poco su cielo Cercherò di dirlo nel modo più semplice Saremo tutti morti entro un anno I segnali ci sono tutti Non sappiamo di cosa si tratti veramente I presagi anche Là giù c'è qualcosa che risucchia le barche E succede sempre più spesso Ora aspetta l'essere umano Non parleremo mai Saper prendere decisioni efficaci Andrà tutto bene, d'accordo? Per salvare il mondo Accidenti Non abbiamo scelta, dobbiamo andarci Se manterremo tutti la calma Avremo la possibilità di sopravvivere Disaster Night Tutti mercoledì alle 21.15 su cielo Camera 2, prima Vuoi sapere cosa ho fatto stanotte? Essere Ci sono tantissime cose che non sai di me O sembrare Guardarci allo specchio e vedere un corpo in cui non ci riconosciamo è devastante Dietro ogni individuo Tu sei già tutto ciò che diventerai C'è una persona Non guardarmi così Come vuoi che ti guardi Fieri di essere ciò che si è La tua identità è indiscutibile Vivi e sii felice Pride Domani sera alle 21.15 su cielo E ora Dash Power Pose Pulito e impeccabile anche a freddo E in cicli brevi Così si risparmia Macchia sparita Bolletta alleggerita Tenere fuori dalla portata dei bambini Grazie a tutti A presto Primi fastidi gengivali? Nuovo Parodontex gengive forti e protette con acido ialuronico. Aiuta a rinforzare il sigillo tra bordo gengivale e dente per una protezione duratura delle gengive. Esperto delle gengive La felicità è andare in bagno. Contro la stitichezza, fabbe di fucca. Un esclusivo mix di erbe per un'azione naturale ed efficace, classico e gentile. E ti cambia davvero la vita. Nuovi mirtillini murino bianco armonia. Farina integrale, mirtilli rossi e semi di chia. Da oggi quello che ti piace ti fa anche sentire bene. Scopri tutta la linea. Murino bianco. C'è un mondo più buono. Si cambia per essere pronte in una sola passata. Si cambia per sentire subito la differenza. Si cambia per dare il meglio alle nuove generazioni. Si cambia la lama e si tiene il manico. Si cambia per noi. Venus, basta un gesto. Complimenti, tutto il papà. Veramente sono due. Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie. Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini. Ma faccio anche due passi e parla da Compass. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Ultima chiamata per il Magnum Pleasure Express. Ovunque ti porti il piacere. Magnum Euphoria, Wonder e Chill. Magnum True to Pleasure. Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a otto ore di protezione anche per le pelli dei più piccoli. PrEP spray antipuntura è approvato da Altro Consumo come migliore del test. Nuovo Borotalco Puro presenta La delicatezza incontra la forza dell'efficacia. Nuovo Borotalco Puro abbraccia la vita. I motori si accendono detto, subito, now! E andiamo! A casa di Walshaw! Passare il weekend in pole position! Questo è now! Tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta streaming. Solo su now! Voglia di un appuntamento speciale? A cosa stai pensando? Ma è facile, no? Pensa puto. Cosa? È ora di lasciarsi sedurre. Quale storia vuoi per prima? Tante volte è come se mi leggessi nel pensiero. Un appuntamento da non perdere. Sembra di essere in un altro mondo. Ecco, non è quello che volevi. Ogni film, una storia. La cosa diventa intrigante. Ogni storia, un'emozione. Ma sì, facciamo follie una volta tanto. Come dicono quei signori di Hollywood, motori e azioni. Cine Summer Jukebox. Da giovedì alle 21 e 30. Su TV 8. Al tasto del telecomando. La visione di questo programma è sconsigliata a un pubblico di età inferiore a 14 anni. Se vuoi impedirne la visione, ricordati di attivare il Parental Control.